Domenica teatina per Vittorio Sgarbi intervenuto a Chieti per sostenere il candidato sindaco Paolo De Cesare il quale ha posto la cultura come punto fondamentale della propria campagna elettorale. Il candidato sindaco nella sede elettorale di Via Priscilla ha presentato il progetto Teate Capitale della Cultura puntando molto sulla rinascita delle bellezze della città e portandola in futuro a diventare capitale europea della cultura. Chieti può giocare la partita di essere dalla parte della cultura la prima città dell'Abruzzo e da questo punto di vista è un'idea giusta sul piano di ciò che deve essere mostrato ai cittadini pensare che il rilancio della città sia legato a elementi che sono quelli di una grande storia. È una lista intelligente e da questo punto di vista io credo che i cittadini e la cultura chietina possano avere in lui un riferimento sicuro. Chieti deve tornare ad avere un ruolo di riferimento almeno in ambito regionale come capitale della cultura in quanto il nostro patrimonio artistico e culturale è immenso penso ai nostri musei archeologici nazionali, ai tempi romani, alle terme romane, al museo Barbella al teatro marruccino che è un teatro lirico di tradizione. Abbiamo tutti i requisiti e le caratteristiche e oggi con la testimonianza di Vittorio Sgarbi il quale sarà sicuramente ambasciatore se io dovesse andare a governare la città di questo patrimonio e di questa valorizzazione grazie alle sue capacità, al suo spessore, alle sue relazioni metteremo in campo questo progetto che è all'interno della nostra agenda del fare. Lui ha accettato e lo ringrazio di cuore per il suo sostegno. Il professor Sgarbi si è poi soffermato sulle elezioni in città provando a fare una previsione sul risultato finale pensando anche ad un ipotetico ballottaggio. Candidare lui nel centro-destra voleva dire avere un 40% di zoccolo di voti e un 20% di voti suoi. Questo non è avvenuto quindi è probabile che il centro-destra abbia una buona affermazione ma che lui da un lato non porti via voti tanto da far vincere al primo turno la sinistra cosa che potrebbe accadere quando si divide un'area uniforme che potrebbe ma che possa creare una situazione che lo porta al ballottaggio mettendo poi in evidenza le due personalità al di là dei partiti di riferimento. Quindi da questo punto di vista ha fatto una buona scommessa. Io credo che il suo risultato andrà intorno al 20% quindi avrà comunque dimostrato rispetto non a Chieti ma alle elezioni che inevitabilmente arriveremo a fare un giorno la nostra intenzione di fare una campagna contro qualcuno è vero che lui pone un problema e crea una situazione dialettica che potrà portare molti tra due destre, due centro-destra a valutare le capacità specifiche del singolo candidato soprattutto al ballottaggio quando i partiti vanno indietro i due candidati si misurano.